E allora torna la Pavia Venezia, nelle immagini che vedete adesso vedete gli amici della Motonella Utica Nordio che stanno preparando una delle imbarcazioni che partecipano alla gara, l'anno scorso non si è disputata perché il Po era in condizioni veramente di secca estrema per la siccità e mentre l'anno prima nel 2021 erano appunto, avevano partecipato più imbarcazioni tra cui quelle della Motonella Utica Nordio, i cui fratelli Pierluigi e Umberto sono ormai dei veterani. Ricordiamo che prima del 2021 la gara era rimasta ferma per dieci anni e non si era disputata. Quest'anno alla gara parteciperanno la Motonella Utica Nordio con due imbarcazioni di cui una con l'equipaggio Pierluigi, Umberto Nordio, il figlio Andrea Nordio e il titolare dell'SD Auto Damiano Boscorocchio, mentre Pierluigi Nordio parteciperà con un altro scaffo o con un altro copilota. Ricordiamo che è una gara storica che negli anni passati creava un clima di partecipazione cittadina molto importante, era molto seguita, univa appunto la città di Pavia con addirittura Fino Venezia, adesso invece si ferma a Chioggia e per chi meno male ha partecipato direttamente e indirettamente è un bellissimo ricordo e fa piacere che venga ripresa e che appunto in particolare ci siano i nostri concittadini che partecipano. Ci permettiamo una battuta ma che anche non è una battuta, Damiano Boscorocchio che è il titolare dell'SD Auto, l'anno scorso ancora era partito con altri tre chiogiotti, Luigi Ranzato, Giorgio Muccio e scusate un altro che adesso in questo momento non mi ricordo il nome, erano partiti appunto per dare con un un furgone pieno di rifornimenti, di aiuti per gli ucraini, la guerra era appena cominciata e Damiano è la seconda volta che partecipa alla Pavia Venezia che in realtà non è una passeggiata, insomma è una gara anche un po' rischiosa, ricordiamo che Pierluigi Nordio l'anno prima aveva rotto degli inconvenienti, era stato necessario il recupero, quindi visto che Damiano è così diciamo intraprendente, confidiamo che il prossimo inverno partecipi anche lui ai bagni invernali con gli Ibernauti. Befed, il pub di successo tutto italiano dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birra i Befed. Befed, presso il parco commerciale Claudie per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.